È morta nella sua Sardegna dove era tornata per una vacanza dopo i lunghi mesi dell'emergenza sanitaria passati in prima linea nel reparto Covid dell'azienda ospedaliera di Padova. Maria Paola Ghisu, operatrice sanitaria di 59 anni, martedì è precipitata da una scogliera di Porto Palmas in provincia di Sassari dove stava facendo un'escursione insieme alla figlia. È stata proprio lei a prestare i primi soccorsi e a tentare di rianimare la mamma, ma per Maria Paola Ghisu non c'è stato nulla da fare. La donna viveva da molti anni a Padova e lavorava in azienda ospedaliera. Nei mesi più difficili della pandemia ha prestato servizio nel reparto delle degenze Covid e da qualche mese era ritornata ad ematologia dove si era fatta subito benvolere dai colleghi. L'incidente dove è rimasta vittima la donna è avvenuto in un sentiero a 20 metri d'altezza sul mare, poco lontano dalla spiaggia La Frana, una zona impervia ma che lei conosceva bene. All'origine della tragedia forse una disattenzione o un malore. Il cordoglio unanime dei colleghi del reparto dell'ospedale di Padova in cui lavorava e che l'aspettavano al rientro delle ferie il prossimo 11 agosto.